Overrun, è una parola inglesa, e se overrun, ora vedremo cosa vuole dire, è la quantità di ar che si collocano dentro dei sorvecchi. Otra regola fondamentale, ricordatevi che non esiste sorvecchi senza ar, cioè esiste, ma lo chiamiamo di piccolè, un piccolè. Un piccolè è un sorvecchi di signar, duro, congelato. Il sorvecchi è cremoso, è altra cosa. Perché c'è quella cremosità? Devido a guardar. Se io prendo la stessa identica risetta e non lo metto in una macchina, oltre, la macchina fa un frio dinamico, no? Perché al stesso tempo che sfria, baci. Ora, il sorvecchi va sciopando l'ar. Ok? Se io prendo quella identica risetta e le metto in un molde e le metto in un congelatore statico, in un frio statico, quella congela. Ma a differenza da quella mistura che ho passato dalla macchina, qual sarà la grande differenza? Che uno sarà mastigabile, duro, l'altro sarà la stessa identica risetta. Questo che vuol dire che l'ar influencia la cremosità del prodotto. E più l'ar lo mettiamo, e più influencia. Ok? 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 Grazie a tutti